Cari amici, speriamo di riuscire in questo tentativo, un po' maldestro il mio, di leggervi questa favola che ho scritto per questi giorni così difficili. Io la leggerò tutta di fila, voi potete spezzarla, non è molto lunga ma neanche cortissima. Diciamo che io mi chiamo Loretana Manciati, sono il presidente del Torcorriere, un'associazione culturale che si occupa d'arte e cultura in generale qui in Olevano Romano. Ho partecipato con la nostra associazione insieme a Giovanni Reffo al progetto Rebair Forum e nei tanti contatti questa idea di creare dei video divulgativi, di sostegno, di supporto è venuta da tanti artisti amici. In questo caso questo video io lo proprerò a Riarteco e spero che sarà gradito. Vado. Gli uomini dalle lunghe braccia. Giorni e giorni sono trascorsi da quando Zeno, un ragazzino di dieci anni, ha vissuto l'avventura della sua vita. Girando in bici, come era solito fare, andandosene per le stradine più dissestate che ormai conosceva quasi tutte. Però quel sabato, di un bel pomeriggio primavelire, ne percorsi una nuova. Che avventura, pensava. Incontrerò qualcosa che non conosco, ne sono certo. Lui era un mimbo ricco di una fantasia irrefrenabile che delle volte gli aveva creato guai. Si inerpicava sempre più in alto verso una specie di picco, pieno di rocce, ma anche alti alberi sempre verdi. Cosa sperasse di trovare? Non possiamo saperlo. Ma nella sua testolina da tempo mulinavano strane idee. Lo zio Iginio, un fratello molto più vecchio del papà, gli aveva mostrati dei disegni dove si vedevano uomini e donne tali e quali a quelli attuali, se non per una differenza alquanto evidente. Quale? Possedevano braccia lunghe, oltre la linea del bacino. Belle, robuste, sembravano muovere molto bene per tutti i lavori domestici. Che stranezza! Erano nati così, aveva chiesto allo zio, che parlava un dialetto stretto. Da chi avesse avuto tali illustrazioni non lo sapeva. Zeno non ne aveva richiavato molto, voleva saperne di più. Spingeva sui pedali con forza, animato da tanto desiderio d'avventura. Finalmente raggiunse la vetta, dove, con meraviglia, poteva ammirare un prato abbastanza grande, verde e pieno di fiori. Nessuno sembrava abitare nella piccola capanna che, se mi nascosta tra i rovi, riuscì a scorgere, incuriosendolo molto. Il tempo d'improvviso cambiò, un temporale stava per aggiungere e certamente non poteva ridiscendere. Così provò a entrare nella casetta. Stava scavalcando il davanzale di una piccola finestra, appena accostata, quando una voce burbera gli intimò. Si entra in questo modo? Chi sei birbante? Zeno spaventato scivolò dentro, battendo il posteriore. Gli scappò. Aia! Il vecchio, che intanto si era avvicinato per aiutarlo, gli porse la mano. Che meraviglia! Pensò. Per il ragazzo fu un vero colpo. Quell'uomo aveva lunghe braccia, come quelle che aveva visto sui disegni. Sembrava essere ancora forte, nonostante l'anzianità. Non si sorprese della sua reazione, anzi lo guardò con un sorrisetto aggiungendo Tu mi sembri un po' sconvolto, vero? Non avevi mai visto un esemplare di uomo dalle lunghe braccia? Il ragazzo reagì con imbarazzo. Beh, in effetti, ma ho visto dei disegni. L'anziano replicò. Davvero esistono ancora? Dopo quasi cento anni? Zeno, in palese imbarazzo, gli chiese se poteva avvicinarsi per toccagliere. Rispetto alle mie e a tutte quelle che conosco sono molto più lunghe. Perché? Il vecchio lo fece sedere su un panchetto, mentre lui si accomodò in poltrona. È una storia lunga, ma tanto ora non può riandare. Con quest'acqua è pericoloso. Ascoltami bene, ragazzo. Come sotto un incantesimo, si accoccolò ai suoi piedi, insieme ad un gatto rosso che gli si strofinò e poi si mise a roffare. L'anziano prese a raccontare una storia vera a suo dire. Accaduta quando lui, che ora aveva cento anni, era piccolissimo. Una vicenda triste, perché una brutta epidemia aveva costretto gli uomini e le donne di tutta la regione a starsene chiusi in casa, per tanti mesi. Solo qualcuno poteva uscire. Veniva controllato dai gendarmi perché non andasse in giro, se non per lo stretto indispensabile, cibo e medicine. Oh, ne corse del tempo. Tutti lontani senza potersi riabbracciare, darsi un saluto. Eppure il contagio proseguiva inesorabile. Morirono tanti, perché più deboli, oppure perché non rispettavano le regole. Spesso di notte uscivano per andare nell'osteria e così venivano arrestati. Le persone si guardavano sospettose. La paura divenne un terrore irragionevole. Vennero abbattuti molti animali per paura del contagio. Molti giovani tornarono dai loro genitori, portando con loro il virus preso in un altro paese. furono giorni di panico, di dolore, mentre trascorrevano lunghe giornate confinati in casa. Arrivavano viveri solo con distributori autorizzati, stavano scazzeggiando. Fu dura, durissima. Non perdere la ragione e la speranza. I medici negli ospedali si immolavano per salvare anche solo una vita in più. Non si vedeva l'alba di quel giorno dove saremmo tornati liberi. Una prigione. Assurdo. Ma fece anche del bene, perché tanti riscoprirono i propri cari. Lo stare vicini, parlare e sostenersi vicendevolmente. Poi si guarì. Così come era cominciata l'epidemia e terminò il suo percorso. La gente però era diventata sospettosa, guardinga. Così anche negli anni seguenti non si abbracciò più. E le braccia divennero sempre più magre, sottili, si accorciarono, come le tue ora e tutti gli altri. Zeno era sgomento. Dunque è esistito un umano diverso da quello attuale? Chiese all'anziano. Ma tu perché sei così? Non ti è successo anche a te? Sono stato fortunato. Credo si possa dire così. Avevo una mamma e un papà che prima mi hanno curato con amore. Poi appena sono diventato un ragazzo, loro si ammalarono per troppo lavoro. Così li dovetti assistere, abbracciare costantemente, portarli fuori. Gli ho dedicato tutta la mia giovinezza. Le mie braccia, così come le loro, rimasero belle lunghe. O meglio, non si rimpicciolirono. Questo destò malcontento nei nostri concittadini che mi vedevano come un privilegiato. Ci siamo dovuti isolare, nascondere da tutti. Da venti anni sono qui in questa cima che gli uomini del villaggio pensano sia maledetta. Nessuno osa salirci. Solo tu hai avuto coraggio. Il ragazzo si accorse di avere gli occhi lucidi e in cuor suo un gran magone. Gli venne una domanda. Potremmo riavere le braccia come le tue. Sono belle e anche utili. Mi sono sempre chiesto il perché il Padre Eterno non ce l'avesse fatte più lunghe. L'anziano sorrise e guardando il ragazzo lo incoraggiò. Basterà crederci e voler bene. Amare tutti come fratelli. Ci vorrà del tempo, ma avverrà. Un giorno. Ora ritorna a casa. Hai smesso di piovere. Ricordati di me e del mio racconto. Diventerai un uomo saggio. Lo credo davvero. Zeno si sentì avvolgere da un abbraccio caldo e intenso. Sarà così, lo prometto, pensò in cuor suo. Appena sceso a valle, Sergio si sentì strano. Gli girava la testa, provò e riprovò da quel giorno a ricordare. Ma gli uomini dalle lunghe braccia comparvero per tanti anni solo nei suoi sogni. C'è della gioia, ma anche della tristezza. Ma forse più che altro è ragionare su quello che ci sta accadendo e che dovremo cercare di superare. Il 21 marzo 2020 ho scritto questa fauletta, che è anche un omaggio al grande Rodari. Per la sua fantasia, ma l'intelligenza con la quale ha affrontato anche temi molto difficili. Arrivederci.